In avanzato, avanzatissimo stato di gravidanza, ma la facevano prostituire lo stesso, si prostituiva lo stesso e i clienti la richiedevano lo stesso e come, indifferenti al fatto che fosse incinta. La squalida scoperta è stata fatta dalla polizia in via Vincenzo Giuffrida, una delle arterie principali di Catania dove si trova il centro massaggio all'interno del quale si praticava la prostituzione. Tra le donne che si vendevano c'era anche la giovane incinta, che ha dichiarato di essere una studentessa e madre già di un bambino, col pancione per 10 euro a prestazione, ma il cliente ne pagava 90, perché gli sfruttatori incassavano 80 euro. Due balordi, uno dei quali con precedenti per reati in materia di stupefacenti, sono stati denunciati, oltre che per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, anche per sfruttamento dello stato di bisogno dei lavoratori. Il centro massaggi è stato sequestrato.